Situato a circa 50 chilometri da Calcutta, troviamo Bandle, un luogo che attira centinaia di persone al giorno, da ogni cammino di vita. Provengono di ogni parte del paese, da ogni cultura, da ogni mestiere e da ogni religione. Bandle è una città che apre le sue porte a tutti senza alcuna discriminazione. La gente viene qui con uno scopo, uno scopo che si vede nei loro volti pieni di speranza ansiosa. Si tratta di una ricerca di realizzazione, la ricerca di un confronto spirituale, una ricerca di essere toccato dal divino. Bella storia quella di Bandle, che si trattava di una chiesa che è stata distrutta dalle forze dell'imperatore Sajjahan. Il miracolo dei sacerdoti e dei cristiani salvati da elefanti selvaggi. Impressionato dal miracolo, Sajjahan ha dato terreno ai cristiani in Bandle e ha contribuito a ricostruire la chiesa. Poi improvvisamente un giorno, la statua della Madonna, che fu affondata nel fiume mentre un soldato ha cercato di salvarla durante la battaglia, è apparsa rivestita di luce splendente. Gente locale, Hindu, vedendo la luce ha cominciato a gredare. Madre, sei tornata, madre sei tornata. Quella stessa statua si vede oggi in un balcone. Lo so, molti sposi, novelli, non cristiani, vengono a cercare la benedizione della madre Maria. La Basilica di Bandle è il simbolo di speranza, un rifugio di pace e di un santuario di devosione. Questa chiesa in Bandle è la chiesa più antica di tutta l'India orientale. Eretta nel 1599, questo santuario mariano di Nostra Signora del Santo Rosario si erge sopra la città di Bandle, chiamando i pellegrini da molto lontano. Questo imponente albero maestro di una nave oltre 350 anni fa, un capitano la cui nave era sul punto di affondare in una tempestata nel golfo del Bengala. E' stato salvato e presentato come un'offerta votiva di ringraziamento. Questo è il motivo per cui i devoti continuano a tornare alla Madonna ogni anno. Alcuni di chiedere l'aiuto, altri di offrire il loro ringraziamento per essere stato di aiutato nel viaggio della vita. La Basilica di Bandle è sotto immensa pressione di tanti pellegrini al giorno. Questo santuario mariano è diventato oggi un centro per la celebrazione, la devosione e la preghiera. La devosione popolare è sempre stata una parte forte della vita cristiana. Si erge come una testimonianza collettiva alla fede cristiana. Il santuario si rivolge alla crescita armoniosa della fede cristiana e la devosione attraverso varie festività celebrata in tutto l'anno. Il santuario si rivolge alla fede cristiana. 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 Grazie a tutti. Ciò che unisce veramente è la loro fiducia nella nostra Beata Madre. Pensiamo alle offerte spirituali che possiamo donare, preghiere, benedizioni, come la Messa, i sacramenti, la confessione e anche la possibilità di rimanere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per coloro che non credono, nessuna spiegazione è possibile. Signora di Bandle, sappiamo che tu sei con noi. Guidaci verso Gesù per seguire il percorso che Gesù ha mostrato.